Allora, eccoci qua, proviamo la prima accensione sulla Ducati del 54, appena fatto il rabocco dell'olio col Bardal Classic, vediamo se riusciamo a farla partire. Ricordo che il motore era bloccato, aveva il cambio completamente rotto, albero del cambio spessato in granacido, il motore, il pistone bloccato, non si metteva neanche in moto, non è riuscito a sbloccarlo una prima volta, poi l'ho rifatto completamente. Vediamo se riusciamo a farlo partire. Signori, come voleva si dimostrare, tac, partito. Il problema adesso è spegnerlo, non ho la chiave.